L'assestamento di bilancio della Regione Puglia andrà in aula con la bocciatura della Commissione. La riunione di ieri è terminata tra le tensioni ed ha evidenziato il precario stato di salute della maggioranza del governatore Michele Emiliano. Difficile immaginare che il bilancio possa essere bocciato anche dall'aula che sarà chiamata ad esprimersi il 30 e 31 luglio su un documento cheppure non ha l'ok della relativa Commissione. Significherebbe praticamente riconoscere che non c'è più una maggioranza e andare tutti a casa. Emiliano avrà quindi a disposizione pochi giorni per serrare i ranghi e provare a ricompattare i suoi. Difficile ricucire però con il consigliere regionale Mino Borraccino della sinistra che ormai da mesi si è dichiarato fuori dalla maggioranza e che ad ogni occasione mostra il suo dissenso. Come ha fatto in commissione bilancio dove astenendosi non ha permesso al centro-sinistra di superare i no delle opposizioni. La manovra di assestamento presentata dal presidente di commissione Fabiano Amati ha registrato infatti solo l'approvazione dei consiglieri Ruggero Mennea, Sergio Blasi, Pentassuglia e Cera pareggiati dai voti contrari delle opposizioni con Franzoso, Zullo, Stea, Conca e Laricchia. E se come da prassi il presidente di commissione si astiene è un segnale inequivocabile di insofferenza l'astensione di Borraccino che fa il paio con l'assenza del consigliere Liviano. Uno strappo evidente in cui si sono infilate immediatamente le opposizioni. Caroppo della Lega invoca le elezioni e gli fa eco da mascelli di Forza Italia. La maggioranza paralizza la Puglia, sostengono in 5 stelle. Intanto il centrosinistra si esprime per dire che considera fuori dalla squadra Borraccino e Liviano che però per tutta risposta gli fanno eco con un laconico ve ne accorgete solo ora.